Il 12 maggio 1820 nasceva la fondatrice delle scienze infermieristiche moderne. In questa data in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dell'infermiere per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sui valori di una professione, una professione che trova il suo significato più originale ed autentico nel servizio all'uomo. Oggi festeggiamo proprio questa bellissima giornata in onore degli infermieri, degli assistenti sanitari e delle vigiliatrici di infanzia che sono infermiere pediatriche. E festeggiamo chi è iscritto da 50 anni come Maffini e Claudia che è iscritto da 35 anni all'albo delle infermieri e degli assistenti sanitari e i neolaureati con le loro tesi. Molti applausi, molta commozione per Claudia Maffini iscritta all'albo professionale da oltre mezzo secolo, ricorda? Tutti i grazi che mi hanno dato i pazienti le gioie quando un paziente ti ringrazia e che ti rivuol vedere. Quello è la gioia, è il regalo più grande che si possa ricevere un'infermiere. La sua è una bella testimonianza per i giovani che cominciano? Sì, perché ce ne sono tanti giovani bravi che hanno proprio la professione nel cuore e tanti invece... Conta un sorriso? Molto il sorriso, ci vuole sempre il sorriso davanti al paziente. Un lungo rito ha offerto alla città intera l'occasione di scoprire il sorriso dell'infermiere e il valore di una professione.